La scelta di viaggiare in autobus è già di per sé una scelta di viaggio sostenibile. Un autobus pieno tra tutti i mezzi di trasporto è quello che emette a persona il minor livello di CO2. Però questo non basta. I nostri autobus vanno a diesel e noi vogliamo andare verso una transizione energetica affinché appunto tutta la nostra flosta sia decarbonizzata, non ci sia emissione totale di CO2 nei nostri viaggi. Lavorato in economia presso l'Università Bocconi di Milano, inizia a lavorare per diverse multinazionali prima nel settore del chimico e poi dei beni di consumo. Nel 2015 conosce l'operatore della mobilità tedesco Flixbus e la sua passione per i viaggi lo spinge a voler portare questo modello di business innovativo sulla mobilità anche in Italia. E diventa prima il Managing Director Italia e oggi il Senior Managing Director Italia e Black Sea. Chi è Andrea Incondi e cosa ti ha condotto a intervenire in questo percorso che poi ti ha portato a lavorare nel settore della mobilità? La mia storia con Flixbus si intreccia un po' con la mia storia personale. Nel 2013 la mia fidanzata si era trasferita a Monaco per lavorare e io da Milano la raggiungevo con questi autobus verdi, erano una novità, erano convenienti, erano confortevoli e ho cominciato ad utilizzarli appunto per andare da lei. E' in uno di questi viaggi che io mi sono detto questa modalità di trasporto, questi autobus verdi devono essere anche in tutta Italia. E allora decisi di scrivere una mail ai fondatori di Flixbus parlandogli del mercato italiano, parlandogli di come era la regulation, la competition, di come avrebbero potuto espandersi nel mercato italiano e gli chiesi un appuntamento. Non mi aspettavo una risposta, ma invece una risposta arrivò. Mi chiamarono e andai a fare questo colloquio che fu più che alto una presentazione del mercato italiano e un anno e mezzo dopo, il 15 luglio del 2015, noi abbiamo lanciato le prime linee di Flixbus in Italia, la Milano-Venezia, e oggi colleghiamo oltre 250 città e abbiamo trasportato milioni e milioni di passeggeri. Wow, straordinario. Allora, andiamo subito su dei temi di carattere globale. Uno di questi sicuramente è quello legato alla transizione ecologica. Il ruolo del settore della mobilità ha una grande responsabilità perché in qualche maniera deve essere coinvolto anche nel riconcepire un nuovo modo di viaggiare in maniera più sostenibile. Da questo punto di vista, diciamo, Flixbus, quali sono i vostri obiettivi, che tipo di obiettivi siete posti, quali sono le azioni che state mettendo in campo per raggiungere una transizione energetica e una sostenibilità maggiore in questo ambito? La scelta di viaggiare in autobus è già di per sé una scelta di viaggio sostenibile. Un autobus pieno tra tutti i mezzi di trasporto è quello che emette a persona il minor livello di CO2. Però questo non basta. I nostri autobus vanno a diesel e noi vogliamo andare verso una transizione energetica affinché appunto tutta la nostra flosta sia decarbonizzata, non ci sia emissione totale di CO2 nei nostri viaggi. Se fosse possibile, se oggi ci fosse una tecnologia che permettesse questo, noi già lo faremmo da domani. Purtroppo noi facciamo viaggi in autobus a lunga percorrenza, quindi le attuali tecnologie non permettono una soluzione. Però stiamo sperimentando. Abbiamo linee più brevi che abbiamo testato con gli autobus elettrici, stiamo testando il biogas, stiamo testando con autobus con i pannelli solari e lavoriamo con università, con produttore, ad esempio per sviluppare i primi prototipi a idrogeno, autobus a idrogeno per la lunga percorrenza. Quindi stiamo lavorando su tantissimi fronti, però è una sfida corale, non è solo di Flixbus. Per questo dialoghiamo tanto con la politica, dialoghiamo tanto con i produttori, dialoghiamo tanto con tutti gli attori coinvolti in questo per far sì che insomma si vada insieme verso una direzione, perché alla fine anche il tassello importante che serve è anche l'infrastruttura. Questi autobus poi dovranno essere caricati in modo rapido, funzionale e di conseguenza non ci deve essere solo la tecnologia a livello di autobus, ma poi ci deve essere una rete infrastrutturale che ne permette una ricarica veloce e rapida e che permette il funzionamento di una rete estesa e capillare come quella di oggi. Quindi state avendo un ruolo quasi da pivot a tutti gli effetti, mettendo attorno a un tavolo più parti proprio per raggiungere questi obiettivi. Benissimo. Allora, io come tu ben sai, Periscopio affronta il tema del cambiamento. Molto spesso il cambiamento è necessario lì dove nascono comunque delle problematiche. Allora, partiamo dal settore del turismo. Allora, il turismo sappiamo benissimo, in Italia spesso si dice che è un pochino il nostro petrolio, no? Potremmo vivere felicemente soltanto di turismo. Però per far questo ovviamente sono necessari degli investimenti. Il settore dei trasporti anche da questo punto di vista è necessario, cioè nel senso che sono necessari degli investimenti che siano mirati nei collegamenti utili. Da un lato, diciamo, a colmare il divario territoriale tra nord e sud, che sappiamo è ancora abbastanza evidente, e dall'altro, diciamo, agevolare quelle combinazioni di spostamento più tradizionali in una logica di intermodalità, cioè mettere insieme, consentire che le modalità più tradizionali, che sono appunto l'auto, l'aereo, il treno e il bus, possano parlarsi con quelle più innovative. Mi sembra quasi, diciamo, perdonami, mi viene da sorridere, perché per innovative spesso si intende appunto la modalità dolce e lenta delle vie fluviali, piuttosto che le ciclovie, i cammini, lungo, diciamo, le strade storiche. Quindi mettere insieme questi due mondi per far sì che appunto anche il turismo in Italia possa essere innanzitutto, diciamo, un volano importante dal punto di vista economico e consentire anche a chi viene in Italia di raggiungere anche luoghi meno battuti, no? Quindi contrastando anche il fenomeno dell'over-tourism, che come sappiamo è abbastanza complesso. Quindi, diciamo, tutta questa premessa per chiederti qual è il ruolo di Flixbus nell'agevolare e nel connettere comunque il settore del turismo. Noi diciamo sempre che non c'è turismo senza mobilità e non c'è mobilità senza turismo. Noi, avendo una rete capillare su tutto il territorio nazionale, sono oltre 250 le città che colleghiamo, ma abbiamo una rete capillare in tutta Europa, favoriamo tantissimo il turismo, soprattutto il turismo italiano. E non solo, perché oltre a collegare i grandi centri, come Milano, Roma, Venezia, arriviamo a collegare tantissime città che sono sotto i 20.000 abitanti. Il 40% delle nostre città sono piccoli e medi centri, che spesso non sono nemmeno collegati con la ferrovia, con i treni, e quindi siamo una soluzione di mobilità fondamentale. Questo è il primo passo per dire quanto noi supportiamo il turismo con la nostra rete. Inoltre offriamo prezzi convenienti alla portata di tutti, quindi tutti possono fare esperienza del mondo, tutti possono andare a visitare Firenze o un piccolo borgo o andare in Europa con un Flixbus. In più, Flixbus opera in tantissimi paesi, negli Stati Uniti, opera in Sud America, in Turchia, oltre come ho detto prima, in tutta Europa. E questo permette che, con una stessa applicazione, una persona che ha viaggiato sui nostri autobus negli Stati Uniti, poi quando verrà in Italia a visitare il nostro paese, insomma, prenda allo stesso tempo un autobus per raggiungere Milano con Firenze, Firenze con Siena e così via. Quindi il nostro ruolo è fondamentale appunto per favorire il turismo e il turismo in Italia. In più c'è questo tema importantissimo dell'intermodalità, al quale noi crediamo tantissimo. Noi crediamo che l'obiettivo principale che ci poniamo è di far sì che le persone utilizzino molto meno la mobilità privata, l'auto. Noi diciamo sempre che il nostro nemico è l'auto privata. E questo si può favorire solo se si creano luoghi intermodali dove si possono appunto coniugare molte forme di mobilità. C'è l'autobus, c'è il treno, c'è la bicicletta, da lì si partono ciclabili o ciclopedonali che vanno e seguono appunto il centro città e così via. Tanti luoghi che oggi in Italia ad esempio mancano e dove potrebbe essere invece un'occasione di sviluppo per il nostro paese, che favorisce ancora di più il turismo, una creazione di questi luoghi che permettono appunto un interscambio e una possibilità appunto di fare turismo e di fare un turismo sostenibile sempre di più. Un altro dei temi di grande rilevanza per il nostro paese è quello della disoccupazione. Nonostante ciò il settore dell'autotrasporto, sia merci che di persone, sta riscontrando una grossa difficoltà perché c'è una mancanza di autisti come è stato appunto anche evidenziato dall'ANAV, che è l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. e il tema è che non è soltanto un problema italiano, ma è un problema di carattere europeo. Ora, quali sono diciamo le riflessioni che avete fatto voi in quanto Flixbus e quali possono essere secondo appunto il vostro punto di vista delle soluzioni per venire incontro e comunque contribuire positivamente a questa problematica? Questa è una delle sfide più grandi che stiamo affrontando adesso. In Europa mancano 105.000 autisti, posizioni che erano aperte e che non sono state coperte. In Italia sono circa 11.000 gli autisti che mancano all'appello. E non solo questo è il dato che ci preoccupa, quindi non è solo una fotografia del momento che potrebbe essere appunto preoccupante per il futuro. è proprio il fatto che osserviamo che il numero di patenti emesse, se le confrontiamo con 20 anni fa, sono circa un decimo. Erano 40.000 negli anni 2000, il dato del 2022, quindi dell'anno scorso, solo 4.000 patenti di, quindi per guidare l'auto, sono state emesse, quindi un decimo. E questo ci preoccupa perché prospetticamente significa che man mano che le persone e gli autisti attuali andranno in pensione, non ci sarà un ricambio generazionale. Quindi è una sfida che deve essere affrontata. Noi la stiamo affrontando internamente con delle soluzioni, ma anche esternamente con la politica. Ad esempio uno dei motivi principali che porta ad un basso numero di patenti è il suo costo. L'accesso alla professione non è super conveniente per i giovani che si avvicinano. Infatti fare una patente costa dai 3 ai 5.000 euro e richiede quasi un anno di tempo. Quindi è un investimento importante. Inoltre oggi per prendere una patente e poter guidare un'auto bisogna avere almeno 24 anni. Quindi la distanza tra quando un ragazzo esce dalle scuole e poi decide di valutare questo tipo di professione è troppo ampio e di conseguenza porta i ragazzi a scegliere altri tipi di professione. Dobbiamo anche ridurre quindi questa distanza. Queste sono proposte che noi stiamo facendo al governo per cercare di ridurre il costo all'accesso alla professione e renderlo più attrattivo anche per i giovani. In aggiunta a questo, quello che stiamo cercando di fare internamente è che abbiamo creato una scuola, l'abbiamo chiamata Flix Academy, che si rivolge a ragazzi che in questo momento non stanno lavorando, dove Flixbus si prende carico di tutto il costo necessario per ottenere la patente, i ragazzi fanno il corso della patente al termine del quale vengono poi inseriti all'interno di una delle nostre aziende partner. Beh, questa è una cosa bellissima devo dire, veramente super interessante. Allora, innanzitutto io ti ringrazio. Prima di lasciarti come d'abitudine faccio l'ultima domanda, che è un pochino di carattere più personale, sarei curioso di sapere se c'è un libro, un podcast, un film, un qualsiasi sorta di contenuto che recentemente o anche meno recentemente ti ha colpito particolarmente e che ti va di condividere con chi ci ha seguito fin qui. Un podcast molto interessante che ho visto e ascoltato recentemente è del Sole 24 Ore, si chiama Grandi Viaggi Senza Aereo. Così per restare in tema. Ed è, racconta appunto delle bellissime storie di viaggi fatti proprio non utilizzando i classici mezzi tradizionali, l'aereo, il treno e così via, ma proprio utilizzando alternative di mobilità. Quindi bellissime passeggiate sulla via Francigena o altri tipi di esperienze, insomma, fatti con una mobilità più dolce, più sostenibile, ma sicuramente più appassionale. Bellissimo, lo ascolterò certamente. Allora, grazie, grazie ancora Andrea, grazie ancora a tutti coloro che ci hanno seguito fin qui. Ci vediamo alla prossima puntata di Periscopio dall'Advocacy Hub di Milano. Ciao!